In autunno parliamo di funghi, qui abbiamo un misto di funghi, caldoncelli, pioppini, tinferli. In abbinamento andrò a metterci una guancia di vitello, brasata semplicemente, quindi un piatto bello saporito. Iniziamo a farlo perché la cottura della guancia è un po' lunga, vado a eliminare un po' di cartilagine. Ora, pentola, vado ad aggiungere burro, anche un po' d'olio. Nel frattempo preparo le verdure, quindi carota, vedano, cipolla, giriamo, sale, pepe, alzo bene la temperatura e vado a sfumare con del martala. Una volta che l'alcol è evaporato, vado a bagnare con del brodo, ovviamente di vitello anche in questo caso. Queste le faccio cuocere per circa un'oretta. A questo punto, se le cuocete, normalmente non impento la pressione come in questo caso ci vogliono circa un 40-50 minuti, altrimenti impento la pressione e andiamo a ridurre naturalmente i tempi. A questo punto iniziamo con i funghi, i cardoncelli, li andiamo a tagliare in maniera grossolana, tinferli, champignon, qualche fioppino. Ora, padella. Quando cuciniamo i funghi è importante che la padella sia veramente calda, altrimenti tendono a ammorbidirsi troppo. Vado ad aggiungere picchio d'aglio in camicia, burro, aggiungo anche un bucchetto di aromi. Vado a salare e pepare. Ok, a questo punto termino la cottura dei funghi e della guancia e vado ad impiattare. Andiamo ad impiattare, andiamo a mettere i funghi, posizioniamo la guancia, andiamo a mettere un po' di fondo di cottura della guancia che ho filtrato e giusto qualche foglia di prezzemolo per chiudere il piatto. Ecco qui, un piatto spiegamente autunnale, funghi e guancia di vitello. Alla prossima, buon appetito!